io chiederei a luca secchi invece di raggiungerci che è responsabile anche lui vincitore della di una menzione speciale in questo caso top of the pd categoria nuovi modelli di business 4.0 picchi duro tu cerchiamo cerchiamo cioè nuovi modelli di business allora intanto chi sei cosa fai cosa fa di glen è una start up innovativa del mondo digitale noi la definiamo boutique digitale perché ci siamo sempre affiancati ai nostri clienti sotto l'aspetto marketing e produzione quindi accompagniamo in un percorso di transizione digitale determinati clienti che possono essere imprenditori o start up per per costruire e tu sei il responsabile di questa esatto agenzia a un certo punto a un certo punto è arrivato il lockdown e cosa abbiamo visto abbiamo visto che è cambiato il mondo e inizialmente abbiamo voluto costruire una prima piattaforma che era la prima garzone per un motivo socialmente utile garzone è in linea per petro garzone mi togliete mi togliete il pane di bocca cioè scrivete meglio di chi scrive questo per mestiere va bene bello carino io sono solo invidioso avrei voluto cioè è arrivato così distinto ma secondo me azzeccato perché pensa che io te l'avrei fatto pagare un sacco quindi è andata bene è andata bene no perché alla fine abbiamo visto che i negozi di vicinato quindi le nostre città erano tutte chiusi i negozi di vicinato avevano necessità ovviamente di rimanere aperte di dare un servizio quindi abbiamo costruito una prima piattaforma che dava solamente una semplice visibilità ai negozi vicinato che offrivano magari consegne a domicilio e altri servizi da quello però interagendo con pubbliche amministrazioni i negozianti sono arrivate fuori le vere necessità di questo mondo cioè quello di interagire con il cliente finale in un'altra modalità il cliente digitale il cliente moderno tutto sommato ha in tasca uno smartphone è connesso è digitale e i negozi vicinato invece non lo sono e quindi abbiamo cercato e stiamo cercando di digitalizzare questi negozi di vicinato salvaguardandoli però perché non vogliamo costruire una piattaforma che sia un e commerce abbiamo anche il fatto abbiamo diverse funzionalità ad esempio quello di fare ordini quello di dare una vetrina digitale abbiamo inserito però una parte secondo noi molto molto importante che è una chat interna perché durante proprio la pandemia abbiamo visto i negozi di vicinato che si sono attivati si sono piano piano digitalizzati chi apriva la sua pagina facebook chi apriva il suo whatsapp proprio per rimanere in vita tutto questo però senza metodo quindi cosa abbiamo pensato quello di costruire dei marketplace territoriali quindi per ogni comune marketplace dove i negozi vicinato adesso la possibilità di costruire il loro negozio digitale per rimettersi in contatto con i loro clienti e questa è stata un po la chiave di volte quello che vogliamo portare avanti con il progetto garzone quanti comuni adesso siamo attivi su una decina di comuni siamo partiti su comuni città come milano che è già digitalizzata abbiamo trovato delle amministrazioni comunali coraggiose che ci hanno seguito come ad esempio il comune di pioltello di mugio siamo arrivati a sondrio qua nelle nostre zone comunque siamo partiti quindi comuni magari anche piccoli non so a ponte san pietro in provincia di bergamo che ha 7 mila abitanti ha ovviamente più il tello che ne ha 40 50 mila che credono in questo progetto e sono stati loro i catalizzatori dei negozi di vicinato le hanno fatti iscrivere e stiamo costruendo assieme al comune un percorso di di formazione perché è non basta solamente dare uno strumento bisogna creare cultura digitale noi ci rapportiamo con dei negozianti che molti sono anche non nativi digitali perché è ancora la vecchia scuola certo però devono capire che essere presenti nel mondo digitale anche solamente con veramente un link o altro è un modo per entrare in contatto con quel consumatore che magari oggi non non passa più davanti alla propria la propria vetrina e quindi garzone nasce nasce per questo per dare un'opportunità in più al negoziante dimostrarsi e di entrare in contatto diretto con il proprio consuma quindi diciamo che il negoziante insomma l'esercente resta analogico nella sua modalità se assolutamente perché è un modo in più per contattare perché ovviamente non dobbiamo svuotare anche di contenuto la città perché la socialità è importante e quindi anche con uno strumento digitale per quello che citavo che può essere anche banale un sistema di chat però se io sono a casa alla sera mi sono dimenticato che domani è compleanno di mia moglie per intenderci che già questo ma capita può capitano però allora magari con uno strumento digitale come può essere ovviamente la nostra piattaforma contatto magari il negoziante di fiducia il mio amico quello che mi conosce alla perfezione quindi il prodotto che mi dà è un prodotto tailor made studiato sulle mie esigenze perché ovviamente c'è un'empatia e un contatto diretto perché se no ricadiamo un po nel mondo che c'è quello dell'e-commerce dove infatti con guarda acquisto e ricevo la merce invece qui il valore forte proprio il valore del dell'offerta commerciale del piccolo esercente secondo me la lezione più importante che è arrivata nella prima edizione dell'età ibrida è stata è stata proprio questa ed è il motivo per cui appena è finita la rassegna a me sono partite le dita però per una pubblicazione perché l'età ibrida è esattamente quello che tu hai appena finito di dire c'è un punto di convergenza dove poli che fino a un po di tempo fa consideravamo contrapposti negozio digitale versus negozio in atomi in atomi oggi convergono in maniera però rimodellando ciò che facciamo e altrimenti il 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 professore anelli dovrà combattere una battaglia spietata tra presenza e didattica a distanza e questa roba qua e diventa e anacronistica secondo me cioè le due cose devono smettere di essere contra ma dico possiamo fare miliardi di esempi anche pre covid no pensa alla famosa eterna marisandra quanto quanto ne abbiamo scritto di atriba tra libro elettronico libro di carta quante sciocchezze no si di il profumo della carta la comodità della 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 del device cioè è è è un contenuto è una scrittura sana può essere veicolata attraverso un podcast cioè io credo che sia da superare esattamente questo tipo almeno secondo me l'età ibrida deve e quest'anno più che mai in questa seconda edizione più che mai deve superare gli antagonismi delle epoche delle epoche precedenti algoritmo intelligenza artificiale e umano due cose che esistono ormai da l'ora della sintesi direi l'ora della crasi dell'incontro la nostra vera il tuo progetto garzone e da questo punto di vista è abbastanza illuminante nostra la nostra sfida è proprio una sfida culturale perché proprio interfacciandoci con i negozianti che veramente con digitale poco poco ci azzecca all'epoca fargli capire che il digitale è un aiuto e non è una contrapposizione perché la prima cosa che citano è il tal sito m'ha tolto m'ha tolto il business no se utilizzano nel modo giusto dello strumento digitale può essere un volano anche per il loro business ovvio che il mondo direi del retail si deve rimettere in gioco e anche l'offerta commerciale deve essere deve essere vista totale deve essere ridisegnato l'atteggiamento il motivo per cui il 15 luglio che sarà il prossimo appuntamento qui e visto che sono diventato bravino 15 luglio ospiteremo domenico romano per parlare di retail open retail open ritelli come deve essere aperto a questo e l'anno scorso mi ricordo che abbiamo chiuso con professor floridi che ha fatto una lezione davvero molto bella su il tema della convergenza dove da proprio quello che diceva il professor ranelli però poco fa da una parte il profitto no e dall'altra invece un'attenzione nuova a una serie di sensibilità le due cose o viaggiano sullo stesso binario oppure sono destinate o l'uno o l'altra a perdersi inevitabilmente e quindi io ti chiederei ma veramente per chiudere come abbiamo fatto prima con con tiziana di gettare la palla in avanti no secondo scusate a me viene la metà fra calcistica perché ha scritto e quindi boh se hai voglia insomma di dire una ma io credo che chi fa l'imprenditore forse bisogna farsi in questo periodo un'autocritica forse l'imprenditore aveva smesso di fare l'imprenditore prima della della pandemia che l'imprenditore deve usare deve fare impresa deve mettersi ogni giorno di porsi porsi le domande per costruire il futuro forse ci eravamo un po seduti e la pandemia ci ha dato una bella una bello schiaffone una bella voglia di di tentare quindi prima si diceva il coraggio sicuramente il coraggio quello di affrontare le sfide e di andare avanti e di costruirci proprio e di disegnarci il futuro che vogliamo senti noi noi faremo del nostro meglio nel senso le prossime settimane questo è un appuntamento ricorrente che sarà qua in presenza finalmente il 15 luglio e sempre in collegamento streaming e comunque sulla piattaforma con tutti i contenuti che avremo voglia di disegnare ibrido di nome di fatto sì assolutamente